Ad Aragona il candidato sindaco Dino Buscemi, ex presidente del Consiglio Provinciale di Agrigento, ha presentato la lista Aragona Nuova Visione. Primo comizio sabato prossimo alle ore 19 in piazza Scifo. Il nostro progetto gira tutto attorno alle persone e gira attorno ad un clima di normalità. I servizi che noi potremo ridare alle persone che piano piano nel tempo sono stati completamente abbandonati o perlomeno trascurati. E poi naturalmente uscire fuori da questo dissesto che fa lavorare in dodicesime e che ha costretto l'amministrazione attuale a versare i cittadini con una serie di tasse e una serie di cabelli che spesso non hanno portato nulla di buono, ma che sicuramente hanno fatto in velocire tutte le varie categorie che sono stati costretti a pagare un surplus per poter mandare avanti la macchina comunale. Ora presento la mia lista che è fatta di persone, anche di persone che hanno fatto politica con grande esperienza, di persone che si occupano del sociale, ma anche di professionisti. E poi in squadra ho un ex sindaco di Agrigento, che lo è stato per dieci anni, che è Biagio Bellanca, che ci porterà la sua esperienza soprattutto in materia di tributi e di rifiuti. E poi abbiamo un'altra persona che è il geometra Peppe Sprio, che è un professionista apprezzato da tutti.